Oggi vi regalo il commento a un'opera che ci porta in Olanda al lavoro nei campi che dagli albori dell'umanità ha sempre scandito le stagioni. Si tratta di Mietitura di Peter Breghiel il Vecchio. In questo splendido dipinto lo spettatore viene trasportato in una calda giornata estiva olandese. L'opera appartiene a una serie commissionata dal mercante di Anversa Niklas Jögenling per la sua residenza di campagna. Il ciclo originariamente comprendeva sei dipinti che mostravano i periodi dell'anno. Oltre alla Mietitura che di solito è identificato come rappresentazione dei mesi di luglio-agosto sono sopravvissuti altri quattro dipinti del gruppo. giornata buia, fienagione, ritorno della mandria e cacciatori nella neve. Oggi queste opere sono conservate al Kundi Storisch Museum di Vienna e alla collezione Lobkowitz di Praga. Questa serie di Breghiel è come uno spartiacque nella storia dell'arte occidentale. Il pretesto religioso che giustificava la pittura di paesaggio qui viene a mancare. Il paesaggio è il protagonista assoluto insieme a un nuovo umanesimo. La descrizione della scena non è idealizzata ma si basa su osservazioni dal vero. Vediamo lavoratori sul campo esausti, sdraiati o seduti che mangiano o dormono. Ancora una volta la composizione di Breghiel è costituita da un'armoniosa combinazione di figura e paesaggio. Una rappresentazione che mostra le attività umane sullo sfondo della natura con un accenno alla fede religiosa richiamata dalla chiesa sulla destra. Domina tutta l'opera la tonalità del giallo oro del grano ormai maturo e pronto per il raccolto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!